Bella a tutti e benvenuti in questo Brutalk che nessuno ha mai visto Ehi Ryan, ma perché ti nascondi dietro la maschera? E me lo chiedi? Ci siamo fatti rubare il Brutalk e l'hai visto tu E anche tu, e tutto il mondo l'ha visto Che vergogna, di nuovo Scappiamo, pronto? Scappiamo! Bella e benvenuti nel Brutalk, nel primo aggiornamento dell'anno Oh Ryan, ma che stai a fa? Bene Dani, grazie per averlo chiesto Perché in questo aggiornamento, noi andremo nello spazio Ora vestiti No, di nuovo Perfetto, sei pronto? 5, 4, 3 E andiamo! Bella e benvenuti nella stagione 5 Gatti spaziali! E noi rilascieremo il nostro primo gatto brawler chiamato Oh oh, c'è qualcosa che non va A quanto pare il nuovo brawler kit verrà sostituito dal Colonello Ringio! Benvenuti nella stagione 5 Star Force Il colonnello Ringio è a capo della nave spaziale Star Force È il nuovo brawler cromatico Ed è anche un gran stratega Ehm... è un cane? Il colonnello Ringio con l'attacco principale Spara due proiettili paralleli Che rimbalzano quando colpisce un muro Come per stecca, ma con delle differenze Ringio spara due colpi in contemporanea Che possono causare rimbalzi particolari Il colonnello è un brawler di supporto Eccola Super fa atterrare un carico dallo spazio Che danneggia i nemici all'atterraggio E rilascia potenziamenti È tempo di informazioni bonus! Ho creato questa immagine per darvi un po' Un'idea più chiara di chi è il colonnello Ringio È un brawler cromatico Ruolo supporto salute 4200 HP a livello 10 Attacco Spara due colpi paralleli Che rimbalzano Quindi un po' come stecca Ma sono solo due colpi Danno di attacco 700 per due Significa che se spara due proiettili Ogni proiettile fa 700 di danno Per un totale di 1400 Se colpite con entrambi i proiettili Con la Super invece Richiede un rifornimento dallo spazio Che può danneggiare i nemici Se colpiti all'arrivo O se raccolti Fornisce un bonus del 120% Alla salute e ai danni Le skin della quinta stagione saranno Berry One Di cui potete leggere il nome qui È Ringio Ronin Inoltre l'aggiornamento Introdurrà nuove skin Per il Capodanno Lunare E Tutte spaziali Arriveranno Bull Buffalo Spaziale Colette Navigatrice E Spike delle Tenebre Attenzione Torneranno disponibili Anche le skin Del Capodanno Lunare Del 2019 Ma per l'ultima volta Troverete anche una nuova skin Ottenibile con i punti stellari Carl Barba Nera Il giorno di San Valentino Sarà disponibile La skin di L'Urubacuori La championship challenge torna E la prima sfida dell'anno Sarà a febbraio Se superate questa fase Potrete continuare a giocare al torneo Direttamente dal gioco Inoltre riceverete 8 nuovi gadget Ne rilasceremo Due a settimana E voi voterete Sui nostri social Quali saranno disponibili Prima E se nuove reazioni animate E reazioni del Capodanno Lunare È tutto per il primo aggiornamento Del 2021 Mi raccomando Iscrivetevi a questo canale Di Sparks Noi ci rivedremo a marzo O prima O a marzo Iscrivetevi Commentate Like Condividete Abbonate Venite Live Sparks E infine Non dimenticatevi Di iscrivervi Commentare Like Condividete Abbonatemi Del live Ho dimenticato Sparks E fin C'ero quasi Ok andiamo Ma che ca... Mercavetta Chi lo lasci Ryan? Ah Non dimenticatevi Non dimenticatevi Toll Che Non dimenticatevi Il Si Chi lo lasci